In cosa la sua famiglia ha sbagliato? Se dovesse dire una cosa, se dovesse riconoscere una cosa che riguarda suo padre, non suo nonno, ovviamente. Mio padre è una persona che ha avuto per la sua educazione forse un grandissimo rispetto della sua famiglia e del suo casato. Io avrei voluto che quello che io ho fatto ben dopo, mi scuso per le leggere, fosse stato fatto anche prima. Però forse qualcosa di più, qualcosa che lui aveva più di me, che è il rispetto della sua famiglia e della sua storia, non gli poteva far dire queste cose a niente. Ecco, questo per esempio per me è stato qualcosa di purtroppo triste e di sbagliato.